Altri tagli a Palazzo Mosti, con ogni probabilità la scure della riduzione dei costi, si abbatterà sui bagni pubblici che costano a lente per il servizio di guardiania pulizia quotidiana ben 120.000 euro all'anno, al mese oltre 10.000 euro. Sono le cifre messe nero su bianco dalla delibera di giunto approvata a febbraio 2015 sotto la gestione Fausto Pepe. A causa delle casse in profondo rosso del comune di Benevento, la giunta Bastella con il suo assessore alle politiche economiche Maria Carmela Serluca, considerato il bando in scadenza proprio oggi, proporrà la rivisitazione dei costi. L'assessore Serluca proporrà l'eliminazione del servizio di custodia dei bagni pubblici, il che comporterebbe una riduzione notevole della spesa che scenderebbe di circa la metà, fissando il costo del servizio a circa 5.500 euro mensili. L'obiettivo è mantenere, con il servizio di pulizia dei bagni pubblici, il decoro mediante l'esclusiva pulizia giornaliera con rifornimento del materiale igienico, apertura mattutina con chiusura serale, senza garantire però la presenza di un custode che aggraverebbe i costi, il che comporterebbe il dimezzamento della spesa. 66.000 euro anziché 120.000 euro. Precedentemente era affidato sia il servizio di pulizia come la manutenzione in guardiania, adesso dobbiamo rifare il bando escludendo la guardiania, cioè inseriremo soltanto l'apertura e la chiusura di questi bagni, ovviamente il servizio di pulizia e di piccola manutenzione. Questo ovviamente per garantire quindi alla città un servizio, un decoro, ma dobbiamo in qualche modo contenere anche quelli che sono purtroppo i costi e a carico del bilancio comunale. Grazie Grazie Grazie